Le squadre di Serie B si preparano al prossimo appuntamento di sabato, il Perugia si sta allenando in vista della trasferta del Duca di Ascoli, sarà privo per questa gara di Santoro squalificato dal giudice sportivo come ci si attendeva avendo raggiunto il bonus di ammunizioni ma anche la squadra bianconera sarà priva di un giocatore di livello quale Simic. Ci sono comunque buone notizie sul fronte perugino del recupero di Rossi e di Curado che era stato colpito al fianco durante la partita e che era uscito anzitempo, mentre l'Ascoli ci presenterà non solo la novità in panchina dell'ex Roberto Breda ma probabilmente anche di un altro ex. Parliamo di Marcello Falserano che col Perugia ha giocato più campionati, più di 100 partite con la maglia bianco-rossa e mi pare 7 gol nel calmiere che era stato messo Falserano in disparte dopo le prime partite del torneo da Bucchi, da Cristian Bucchi ma che probabilmente Breda potrebbe recuperare e presentare in campo anche per dare una sterzata ad una squadra che ha imbucato un tunnel dal quale non sembra essere in grado di uscire almeno fino ad oggi. Anche da parte della Ternana che giocherà il prossimo turno in casa con il Parma arrivano buone notizie perché Antonio Palumbo è uscito dall'ospedale alla vigilia della partita di Cosenza era stato colpito da una colica addominale e quindi dovrebbe essere a disposizione. C'è qualche interrogativo per Mantovani e per Favilli che sono stati colpiti dall'influenza però mancano ancora un paio di giorni alla vigilia della partita per cui magari si potrebbero allenare ed allenare nell'ultima fase di preparazione alla gara. Nella Ternana c'è qualche contrasto indiretto per la verità tra l'allenatore e il presidente, l'allenatore si era lamentato dicendo che la squadra rosso-verde aveva segnato un record sul mercato senza alcun ingresso a gennaio e il presidente ha risposto parlando con altri giornalisti che Andrea Soli ha a disposizione un fior di giocatori che erano anche appetiti a suon di milioni sul mercato di riparazione e che la Ternana cioè Bandecchi non ha ceduto proprio per mantenere inalterate le ambizioni di promozione in serie A. Queste sono discussioni, piccole tempeste in un bicchiere d'acqua che dovrebbero durare come le rose una mattinata soltanto. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!